Ciao, mi chiamo Edoardo Longo, ho 28 anni e vengo da Bologna. Sono uno sciatore veloce e potente e stilistico. Sono maestro di sci, allenatore per lo SciClub 18 e alleno i ragazzi più piccoli. Il mio setup preferito deve prediligere la discesa, quindi ok uno sci largo, pastoso e che mi tenga insomma, se no cado. Di solito uso Atomic, Ben Chandler 120. Sono 1,79 peso 92 kg l'estate, non adesso. Il mio numero di piede è 45. Il mio sogno è continuare a fare quello che mi piace.